Musica Rifiuti polla tra i 7 siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania. Dati negativi per i prezzi degli immobili, il punto con il direttore della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca. Monte San Giacomo, Cavalli e Zonzo del centro abitato, è emergenza? Sanza ha attivata la convenzione per parcheggi e stivi lungo le spiagge di Policastro Bussentino. Sanza e gli studenti dell'Istituto Comprensivo finalisti della settima edizione del School Movie Cinedu al Geffoni Film Festival. Buonasera gentili telespettatori, ben trovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura parliamo ancora del caso Rifiuti perché in vista del blocco del termovalorizzatore di Acerra che dovrebbe essere programmato a partire dal prossimo 30 agosto e fino al 12 ottobre, quindi per circa 40 giorni, il sito di polla si ritrova ad essere stato confermato tra i 7 siti di stoccaggio che contribuiranno a scongiurare l'emergenza di Fiuti in quei 40 giorni. Vediamo. Si avvicina la chiusura del termovalorizzatore di Acerra che si fermerà dal 30 agosto al 12 ottobre. Il piano, preparato dalla Regione per scongiurare la crisi, prevede l'utilizzo di piazzole, l'apertura dei siti di trasferenza comunali, oltre a nuove gare per il trasferimento della spazzatura fuori Regione. Le proteste nei comuni individuati per le piazzole sono iniziate già da tempo, ma l'opposizione dei territori non ha fermato l'Iter. Tra i siti di stoccaggio individuati da tempo e confermati vi è il Capannone di Polla, insieme con Battipaglia in provincia di Salerno, poi a Cerra, Giuliano, Napoli, Sant'Ammaro in provincia di Caserta e pieno d'ardine ad Avellino. Solo la provincia di Benevento resta libera. Il piano è stato varato dalla Regione su indicazione delle società provinciali responsabili dello smaltimento dei rifiuti che hanno tenuto conto della mancanza di tempo e di denaro. Riaprire una piazzola già attrezzata è molto più semplice ed economico che realizzare un nuovo sito. Per la provincia di Salerno sono previsti dunque due siti, una a Polla per il quale l'Iter autorizzativo è avviato e che ha una capacità di circa 3.900 tonnellate e uno nello stir di Battipaglia per 3.000 tonnellate, di cui 2.500 già autorizzate. La politica locale non è stata in grado di fermare l'esodo di rifiuti verso il Vallo di Diano. La questione dello smaltimento e gestione dei rifiuti continuerà a ripresentarsi e la politica, se non si muove per tempo, continuerà a poter fare poco se non addirittura niente. In questo contesto si inserisce la proposta del consigliere provinciale Giovanni Guzzo di puntare sulla costituzione di subambiti, così che ciascun territorio possa gestire i rifiuti per proprio conto. Per il subambito a Ecodiano un incontro preliminare si è tenuto a Salerno lo scorso 2 luglio. Con buone speranze che il progetto prenda forma, la gran parte dei sindaci valdianese era presente e della riunione si è detto molto soddisfatto il presidente dell'ende d'ambito Giovanni Coscia. E sulla questione è intervenuto l'onorevole Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia. Oggi dichiara, certifichiamo il fallimento politico e amministrativo del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella gestione del ciclo per lo smaltimento dei rifiuti. Con lo stop dell'inceneritore di Acerra, la Campania è alla vigilia di una nuova emergenza perché è stata bloccata la necessaria realizzazione di un nuovo termovalorizzatore mentre si consente l'apertura di discariche a cielo aperto, ben sette aree chiamate siti di stoccaggio. Dopo quattro anni da De Luca solo balle, un fallimento a 360 gradi, continua Cirielli. Nessun impianto che traghettasse la Campania verso un ciclo di smaltimento ordinario è stato realizzato. Le ecoballe non sono state smaltite, al contrario, spiega ancora, sono stati spesi milioni e milioni di euro per distribuire incarichi e clientele senza aver ottenuto nessun risultato concreto. Ci sono, continua Cirielli, inchieste della magistratura per accertare reati e auspico che la procura intervenga anche a battipaglia per tutelare la salute dei cittadini e garantire la correttezza delle procedure dove un moderno impianto stir è stato trasformato in discarica. Nel frattempo i danni del malgoverno li pagheranno ancora una volta i cittadini della Campania. E cambiamo argomento, parliamo ora di economia. Lo facciamo con il direttore della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca, che fa il punto sui dati negativi che si sono registrati per i prezzi degli immobili nel primo trimestre del 2019 al sud. Vi è stagnazione sui mutui delle case. Vediamo. Il direttore della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca, fa il punto sui dati negativi che si sono registrati per i prezzi degli immobili nel primo trimestre del 2019 affermando che al sud vi è una stagnazione sui mutui casa. La pressione della crisi economica continua ad avere ripercussioni sui prezzi che sono calati rispetto alla media del 2010 del 17,2%. I dati ufficiali sono del bollettino dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, secondo cui la causa di questo risultato è da attribuire al crollo degli importi calcolati sulle abitazioni esistenti, circa un quarto e meno rispetto al 2010, meno 23,7%, mentre quelli delle abitazioni nuove si sono attestati sul più 0,8%. L'Istat mette in risalto anche come i prezzi dei primi tre mesi siano calati anche sullo stesso periodo del 2018, meno 0,8%. Il direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca, fa la sua analisi partendo dai dati dell'ABI, l'associazione bancaria italiana, per interpretare il fenomeno dei mutui casa. Le compravendite di case con il ricorso a mutui, ha spiegato il direttore De Luca, sono cresciute del 107% negli ultimi cinque anni, ma questo è un dato che non corrisponde al tessuto economico delle piccole realtà, soprattutto nel sud. Qui vi è una stagnazione sui mutui casa. Il mercato è praticamente fermo, nonostante vi siano delle opportunità in termini di tassi molto vantaggiosi. La crisi si sente molto, in realtà dove non vi è dinamismo economico, ha proseguito il direttore della BCC di Buonabitacolo, che ha posto l'accento anche sul fatto che al sud la casa di proprietà è un valore sociale, prima ancora che economico. Tuttavia, ha detto, ci troviamo in una condizione in cui vi è una presenza massiccia di immobili in vendita, con prezzi anche interessanti, ma che si scontrano con una visione prospettica del futuro non positiva e che non spinge ad investire, ha concluso il direttore Angelo De Luca. La cronaca incidente stradale sulla SS18 a Vibonati, in località Villa Mare, dove un furgone questa mattina è sbandato andando ad impattare contro la tabella di un noto hotel lungo la strada. Fortunatamente non si registrano feriti gravi ad essere stato coinvolto nell'impatto anche una Toyota Yaris. Secondo una prima sommaria di costruzione, pare che il furgone, con alla guida un uomo di origini sarde, si sia scontrato con la Toyota Yaris, con alla guida una donna del posto colpendo l'auto sulla fiancata ed è successivamente andato ad abbattere l'insegna del noto albergo. Immediato l'intervento sul posto dei soccorritori, anche se per le due persone coinvolte nell'impatto fortunatamente non si sono state registrate ferite gravi, ma solo tanto spavento. Presenti inoltre anche i carabinieri della stazione di Vibonati per effettuare tutti i rilevi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Andiamo ora a Castel San Giorgio, ancora la cronaca. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha infatti effettuato un sequestro per un complesso aziendale e quote societarie nei confronti di sei soggetti ritenuti responsabili a vario titolo del reato di bancarotta fraudolenta e riciclaggio a Castel San Giorgio. Hanno simulato la vendita ad un'altra ditta di beni aziendali, due intere linee di produzione mentre in realtà continuavano ad utilizzarli, poiché lasciati nella disponibilità di un ulteriore soggetto economico sempre riconducibili allo stesso gruppo familiare. Per rendere più difficoltosa la ricostruzione dei passaggi societari e del patrimonio aziendale hanno sottratto parte delle scritture contabili ed addirittura presentato una falsa denuncia di furto di beni. Una tattica con la quale pensavano di non destare sospetti ma che invece è finita sotto la lente di ingrandimento dei finanzieri del Comando Provinciale di Salerno che su disposizione del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di un complesso aziendale e quote societarie nei confronti di sei soggetti ritenuti responsabili a vario titolo del reato di bancarotta fraudolenta e riciclaggio. L'indagine coordinata dalla Procura di Salerno e condotta dalla Compagnia di Nocera Inferiore ha riguardato una nota azienda di Castel San Giorgio operante nel settore manifatturiero della produzione di involucri di latta utilizzati dalle industrie conserviere dichiarata fallita nel gellaio del 2017. Le attività investigative hanno portato alla luce le condotte distrattive degli amministratori di diritto e di fatto dell'impresa che ne hanno determinato il dissesso economico pregiudicando così gli interessi dei creditori per la maggior parte piccoli imprenditori dell'agronocerino. A tutti è stato notificato un avviso di garanzia per i reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio nonché per simulazione di reato. E sempre per la cronaca brutta storia a Casa Albuono dove un 25enne studente universitario fuori sede è stato raggirato da malviventi che fingendosi carabinieri gli hanno svuotato il conto corrente. I militari di Roma avrebbero contattato l'ufficio anagrafe del comune di Casa Albuono attraverso una PEC per chiedere i dati del giovane in merito ad un'indagine. Arrivando tramite PEC l'ufficio ha ritenuto attendibile la richiesta e ha fornito i dati avvisando comunque la famiglia. Nel frattempo i malviventi erano riusciti dati alla mano ad usare la post pay del giovane a svuotare il conto su cui c'erano diverse migliaia di euro. Andiamo a Monte San Giacomo da alcune settimane sembra tornato ad affacciarsi il problema dei cavalli incustoditi che vagano nel centro abitato un problema mai risolto completamente che in alcuni momenti si fa ancora più urgente sembra però che la soluzione non sia così semplice. Vediamo. Cavalli incustoditi sulla strada provinciale 72 nel centro abitato di Monte San Giacomo non è una scena nuova una storia che si ripete da anni qui siamo nella centralissima via Vincenzo Marone come dimostra il video testimonianza girato da un cittadino qualche sera fa che si trovava al bar quando ha visto sfilare fiero sotto gli occhi i suoi e degli altri presenti un drappello di cavalli. Ieri è successo di nuovo quattro cavalli sono arrivati racconta il sindaco Raffaele Accetta sempre dalla zona Accio che si trova tra le due provinciali che conducono a Sassano la 72 e la 121 per fortuna questa volta sono andati verso il campo sportivo Continuacette e lì sono stati bloccati dal vigile Andrea Lasala quindi identificati dai carabinieri della stazione di Sassano con l'ausilio del veterinario dell'Aslil dottor Gaetano Ferrari sono stati poi consegnati ai proprietari applicando le relative sanzioni. Ecco quindi che si riaffaccia il problema dei cavalli incustoditi mai completamente superato va detto il fenomeno sembrava però essersi attenuato in passato c'erano state molte più segnalazioni e lamentele era una vera e propria emergenza che aveva creato non pochi disagi e qualche incidente sulla strada provinciale 72 una strada che viene percorsa ad alta velocità caratterizzata da tratti con curve chiuse quindi con scarsa visibilità alto rimane quindi il pericolo per gli automobilisti che rischiano ora di nuovo di impattare contro animali che vanno a zonzo senza controllo il problema sembra di difficile soluzione i cavalli vaganti sono di proprietà puntualmente infatti vengono identificati i proprietari individuati li riconoscono come propri ringraziano quindi per il servizio pubblico di recupero che vigili urbani, asli e carabinieri sono costretti a fare e pagano la sanzione il problema raccontato tra il serio e il facetto non è di poco conto cittadini e automobilisti chiedono maggiori controlli e un intervento concreto purtroppo però pare che la legge per omessa custodia e malgoverno di animali preveda per i proprietari solo sanzioni pecuniarie responsabilità maggiori emergerebbero qualora l'animale provocasse incidenti all'indomani delle elezioni comunali a San Pietro Altanagro con la riconferma a sindaco di Domenico 40 era stato annunciato da parte del gruppo San Pietro in movimento la costituzione di un'amministrazione Ombra per la supervisione degli atti della maggioranza ora il gruppo capeggiato da Piera Romando presenta un bilancio dei primi 45 giorni di attività dell'amministrazione Ombra Il gruppo San Pietro in movimento ha voluto condividere con i suoi elettori e con la comunità quanto fatto nei primi 45 giorni di amministrazione comunale pur nel ruolo di minoranza il gruppo guidato da Piera Romando ha voluto comunque far sentire la propria voce la propria presenza sul territorio Oltre a farsi portavoce recentemente del problema del randagismo sono state diverse le iniziative adottate in questi primi 45 giorni azioni che entrando nelle case dei cittadini per distribuire il programma sulla repressione del fenomeno del randagismo e raccogliendo le filme della petizione da presentare poi all'amministrazione comunale vengono anche illustrate All'indomani delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale che avevano visto la decisa affermazione del gruppo capeggiato da domenico 40 gli eletti della lista San Pietro in movimento dato la volontà precisa di operare in maniera attenta in veste di minoranza ricoprendo il ruolo di amministrazione ombra al fine di monitorare sull'operato della maggioranza guidata dal sindaco 40 A 45 giorni dalla costituzione quindi dell'amministrazione ombra arrivano ora i primi rendiconti con i referenti di San Pietro in movimento che nell'ambito del porta a porta per la sottoscrizione della petizione contro il randagismo lasciano nelle case anche il resoconto della loro attività un'azione che si è sviluppata in sette punti il gruppo si è adoperato per chiedere lo sfaccio dell'erba su tutto il territorio comunale ed ha acquisito i contratti di servizio in essere per il comune di San Pietro Altanagro l'amministrazione ombra ha inoltre presentato richieste al presidente del consiglio per la trasmissione indiretta dei consigli comunali al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e per l'istituzione di commissioni consigliari su materie sensibili come bilancio e PUC secondo quanto riportato sul volantino Piera Romando il gruppo di San Pietro in movimento ha inoltre ottenuto tutti gli atti relativi al bilancio che ora stanno visionando e su cui assicurano anche che la comunità sarà presto informata anche l'illuminazione pubblica è stata oggetto di intervento chiedendo all'amministrazione 40 di provvedere alla sostituzione di tutte le lampadine non funzionanti sul territorio sulla base anche degli adempimenti contrattuali ed inoltre anche richiedere la manutenzione dell'impianto vista la presenza di molte zone che restano al buio sul territorio i comuni di Sanza e Santa Marina hanno attivato una convenzione per i parcheggi estivi lungo le spiagge di Policastro Bussentino vediamo i dettagli allo scopo di agevolare la presenza di bagnanti di Sanza a Policastro Bussentino la convenzione è stipulata dal comune ai piedi del Cervati e dal comune di Santa Marina una collaborazione nata considerando anche lo storico legame che esiste tra le due comunità e la vicinanza geografica di Sanza a Policastro Bussentino le due amministrazioni comunali dunque guidate rispettivamente da Vittorio Esposito e Giovanni Fortunato hanno siglato una convenzione che attiverà tra i due comuni una collaborazione al fine di agevolare la presenza di bagnanti di Sanza a Policastro Bussentino offrendo la possibilità ai cittadini di Sanza di poter fruire dei diversi parcheggi lungo le spiagge di Policastro Bussentino ad un costo agevolato la convenzione prende vita dietro la considerazione che storicamente negli anni la comunità di Sanza ha frequentato da sempre le spiagge di Policastro Bussentino dunque l'accordo vuole essere un modo per agevolare i cittadini sanzesi che potranno così godere di un prezzo scontato sui parcheggi tutti i cittadini di Sanza che vorranno soffrire di questa agevolazione dovranno recarsi muniti di carta di circolazione e di documento di riconoscimento presso la delegazione del municipio di Santa Marina alla frazione Policastro nei presti dell'ufficio postale dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato per richiedere il ticket parcheggio scontato al costo di 30 euro valido fino al prossimo 30 settembre per un'intera estate dunque i cittadini di Sanza potranno recarsi al mare a Policastro Bussentino sapendo di avere uno sconto sul parcheggio e di contro ne trarrà vantaggio anche tutto l'indotto economico e commerciale di Santa Marina che vedrà le sue spiagge sempre più affollate e andiamo a Padula in merito alla vicenda legata alla piattaforma www.padulacertosa.it che ormai sarebbe uno shop di scarpe intervenuta l'amministrazione comunale di Padula prendiamo atto dichiarano che solo 4 persone qualche fedin che si aggira nei pressi della Certosa non sono a conoscenza dell'avvio del brand Padula Sistema Museo e della nuova piattaforma da oltre un anno di promozione del sistema turistico a Padula denominata www.padula.eu la piattaforma www.padulacertosa.it è uno strumento desueto accantonato e che soprattutto ha segnato il fallimento di una scelta politica e strategica del sistema turistico del nostro paese con enorme spreco di denaro pubblico il dominio www.padulacertosa.it continuano ironici adesso è libero e probabilmente il motore di ricerca avrà intuito che all'ideatore di quella piattaforma fallimentare non vanno più le scarpe ed ha voluto offrirgli la possibilità di cambiarle con delle nuove ricordiamo che il modello di gestione turistica di Padula è attualmente all'esame del ministero come buona prassi a livello nazionale ma i nostri eroi di Padula bene comune fingono di non vedere per quel che riguarda l'esternalizzazione di alcuni servizi poi asseriscono che ha migliorato sensibilmente i livelli qualitativi con significative riduzioni dei costi a carico del bilancio comunale e ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria restate con noi bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo nel Cilento dove proseguono i lavori di pavimentazione sulla Cilentana con il necessario ricorso al senso unico alternato in orario notturno senza deviazioni sui percorsi alternativi ma vediamo ulteriori dettagli proseguono i lavori di pavimentazione lungo la strada statale 18 Cilentana e proprio in tale ambito da ieri sera è stato necessario istituire un senso unico alternato in orario notturno senza deviazioni sui percorsi alternativi nel dettaglio fino all'8 agosto prossimo nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del mattino del giorno successivo esclusi i giorni festivi e i prefestivi non ci saranno dunque più le chiusure del tratto stradale e le deviazioni sui percorsi alternativi ma sarà istituito solo un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico dal chilometro 113 al chilometro 119 500 inoltre Anas ha fatto sapere che saranno in vigore sul tratto in questione il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità di 30 km orari in prossimità del cantiere Anas ancora raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all'applicazione Vai di Anas disponibile gratuitamente in App Store e in Play Store inoltre si ricorda che il servizio clienti pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800 841 148 Domani gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Sanza Buonabitacolo saranno protagonisti del Giffoni Film Festival il corto realizzato per il progetto School Movie Cinedu infatti raggiunge la finale e domani sarà in proiezione a Giffoni Domani 18 luglio i bambini di Sanza protagonisti del Giffoni Film Festival per la settima edizione del School Movie Cinedu concorso promosso nell'ambito del Giffoni Experience per stimolare tra gli alunni delle scuole primarie e secondarie fantasie e creatività anche i giovani di Sanza hanno aderito al concorso supportati dall'amministrazione comunale realizzando un lavoro capace di dare risalto alle bellezze storico-culturali e paesaggistiche presenti nel suggestivo volgo ai piedi del Cervati grazie agli studenti dell'istituto comprensivo Sanza Buonabitacolo domani giovedì 18 luglio il territorio di Sanza sarà sugli schermi del Giffoni Film Festival per raccontare la storia d'amore di due giovani durante la guerra vicende e avvenimenti che nel corto in proiezione per la finale del School Movie Cinedù sarà raccontato da una nonna e i suoi nipoti in uno scenario di bellezza naturalistica e storica per il corto dal titolo L'amore vince sempre il tempo tra i luoghi di ambientazione degli eventi anche l'antico ponte a schiena d'asino sul fiume Busento e l'antica torre medievale del centro storico di Sanza un'occasione importante per i ragazzi e per il territorio visto anche il prestigioso parterre di ospiti che seguiranno l'evento ideato da Enza Ruggiero e che coinvolge 52 comuni della regione Campania saranno infatti presenti oltre a Chiara Marciani assessore regionale alla formazione anche nomi illustri dello spettacolo e del giornalismo come Cristina Donadio protagonista del telefilm Gomorra e poi Rino Genovese giornalista Rai Pippo Pelo e Adriana Petro di Radio Kiss Kiss il corto realizzato così dai ragazzi di Sanza seguiti dalla professoressa Anna Maria Gallo raggiunge la finale del concorso riuscendo così e anche nell'idea di valorizzazione e promozione del territorio di Sanza attraverso la narrazione e la rappresentazione dei ragazzi soddisfatta l'assessore alle politiche sociali di Sanza Marianna Citera che accompagnerà i ragazzi a Giffoni abbiamo creduto da subito in questo progetto spiega rivelatosi molto coinvolgente per i ragazzi siamo orgogliosi del loro lavoro della loro passione del loro impegno ringrazio quanti hanno contribuito con idee e tempo alla realizzazione del progetto occorre riferisce in conclusione rivolgendosi ai genitori dare valore e fiducia ai nostri figli che celano capacità e passioni a noi sconosciute questo successo rappresenta un nuovo passo verso la crescita culturale della nostra comunità e domenica 28 luglio ad Atena Lucana torna la manifestazione Briganti del Terzo Millennio tra Natura e Cultura prevista un'escursione a cavallo con l'associazione Amici in Movimento Torna anche quest'anno ad Atena Lucana Scallo la manifestazione Briganti nel Terzo Millennio tra Natura e Cultura in programma domenica 28 luglio presso l'area attrezzata a Renaccia organizzata dall'associazione Amici in Movimento preseduta da Francesco Bellomo un evento che prevede diverse iniziative nel corso della giornata con lo scopo di offrire ai presenti tanto divertimento all'insegna dell'arte dello sport della natura e soprattutto dell'integrazione nell'ambito dell'iniziativa domenica 28 luglio si svolgerà la passeggiata escursionistica a cavallo guidata dai soci dell'associazione Amici in Movimento Ciro Cicchetti Ciro Esposito e Ciro Chechile a cui seguirà uno spettacolo equestre nel primo pomeriggio l'idea nasce in seguito all'incontro avvenuto tra il presidente dell'associazione i vari soci l'amministrazione comunale e il responsabile organizzatore dello spettacolo equestre Giampiero Forlano l'escursione a cavallo lungo il sentiero Le Grotte dei Saraceni prevede un raduno alle 8 con successiva partenza dall'area attrezzata Renaccia di Atena Lucana Scalo per poi risalire verso zona contrada a Tempa degli Arnici dove si sosterà per una pausa aperitivo presso un ristorante del posto e riscendere per ritrovarsi tutti insieme ad ora di pranzo a degustare menù tipico locale lo spettacolo equestre previsto nel primo pomeriggio è un evento per grandi e piccini e sarà un momento di intrattenimento e aggregazione sociale anche per i ragazzi diversamente abili del centro Iris i quali prenderanno parte alla giornata una bella occasione per socializzare per dare spazio all'integrazione e anche per ammirare le bellezze paesaggistiche del territorio ed era questo l'ultimo servizio di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti